Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola Avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque dicendo Signore mi hai consegnato cinque talenti, ecco ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose Servo malvagio e pigro Tu sapevi che mieto dove non ho seminato E raccolgo dove non ho sparso Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri E così ritornando Avrei tirato il mio con l'interesse Toglieti dunque il talento e datelo a chi ha dieci talenti Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza Ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre La sarà pianto e stridore di denti Sero dato Gesù Cristo, sempre sero dato Eccoci giunti a sabato 28 agosto 2021 Festeggiamo quest'oggi Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa Prima abbiamo festeggiato la sua mamma, Santa Monica E adesso festeggiamo il figlio, Sant'Agostino Certamente due cristiani Che hanno saputo far fruttare E come I loro talenti Il Vangelo di quest'oggi Tratto dal capitolo venticinquesimo di San Matteo Versetti 14-30 Ci ricorda questa parabola così importante Così bella che Gesù consegna ai suoi discepoli Nella vita spirituale E quindi nella vita umana Nella vita potremmo dire Ordinaria Concreta Ciò che conta non è Avere tanto Ma Gestire bene Non è importante che abbia un cui Di 141 Di 121 Di 100 non so cosa Se poi questa intelligenza Non la so usare bene Cosa interessa Che io sappia risolvere le equazioni di secondo grado Io sappia fare i logaritmi Gli algoritmi E non so quant'altro E poi Non sono capaci di gestire i conti di casa E poi Non sono capaci di andare a comprare il latte E poi Non sono capaci Di andare a scegliere un pesce Perché non so distinguere un pesce Con l'occhio spento Da uno Bello fresco Da poco pescato A cosa serve? Se questo vale E vale Nella vita ordinaria Nella vita di tutti i giorni A maggior ragione Vale nella vita spirituale Che capite Non è altro Sono Due realtà Che fanno parte Del medesimo individuo Della medesima persona E che si arricchiscono Si intrecciano Si informano A vicenda Uno con l'altro Hai due talenti Ma li fai fruttare Tutti e due Perfetto Benissimo Esattamente come Chi ne ha dieci Uguale Nella logica di Dio Ciò che conta E che tu Li abbia trafficati Cioè che tu Li abbia messi A servizio di Questo è quello che conta Poi arriva Che è un talento solo Che nella nostra vita Sono quelli che dicono No ma io Non ho Non ho doni Non ho talenti Non ho Non sono capaci di fare questo Non sono capaci di fare quello Ma una cosa La saprai fare No? E questo cosa fa? Questo conosce benissimo Il modo di fare del Signore Lo descrive Siccome la parabola La inventa Gesù Gesù sta parlando di sé Quindi Vediamo cosa dice Signore So che sei un uomo duro Che mieti dove non hai seminato E raccogli dove non hai sparso Ah quindi anche il Signore è duro Quindi c'è una durezza Sì c'è una durezza Perché capite Sul molle Non costruisce niente Nessuno Se noi avessimo le ossa molli Noi cadremmo Se noi avessimo i denti molli Ci cadrebbero i denti Ma c'è qualcuno di voi A cui piace Un uomo molle Cioè Non so Come fai a mangiare Su un tavolo molle? Come fai a mangiare Con le forchette molle? Quando voi andate a comprare I peperoni O i pomodori Che capite lì no? Che si impara poi A vivere la spiritualità Quando voi andate a comprare I pomodori Voi gli dite Mi dia solo pomodori molli Mi dia solo peperoni molli Quelle zucchine lì sono molli? Sì Allora le voglio io Prendogli le zucchine molli Ma chi è che di voi Va a comprare una roba del genere? E perché se non lo facciamo Col peperone Il pomodoro E non lo faccio Con la zucchina Lo devo fare con Dio Nella vita ordinaria Di tutti i giorni? Perché dobbiamo portare avanti Una logica Dell'uomo molle? Di una psicologia molle? Ma la roba molle Non piace a nessuno Che sia da mangiare Che sia Non lo so Che è che gli piace avere A fianco un amico molle? Invece Noi quando dobbiamo fare Un complimento a qualcuno Gli diciamo Quello è un duro Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che è una persona forte Vuol dire che è un uomo granitico Quello sì che è un duro Diciamo noi Infatti esistono i duroni E ovviamente sono quelle ciliegie Buonissime Fantastiche Che diversi di voi Mi hanno fatto assaggiare In questa estate Ho assaggiato Le ciliegie di mezza Italia Possiamo dire E ci sono i duroni Duroni Ma non ci sono i molloni Perché i molloni Non li mangia nessuno E i duroni Sono duri E quando tu vai Il peperone Gli dici Voglio un peperone Bello duro Bello compatto Voglio un pomodoro Maturo Ma non mollo Voglio bello duro Capite? So che sono un uomo duro Certo Certo Cioè non sono una Una bandiera Non sono Non so Una roba molliccia No Sono un uomo duro Cioè sono un uomo Tutto in un pezzo Quando dice sì e sì E quando dice no e no Che sa dire bene e male Che sa essere severo Che miete dove non ha seminato E raccoglie dove non ha sparso Appunto Appunto Che è capo Che Come possiamo dire Che ha dell'incredibile E che ha anche delle pretese Incredibili Alle quali noi ovviamente Non siamo minimamente abituati Perché noi stiamo educando Generazioni nuove Ad essere mollicce Non solo a non mietere dove non si è seminato Che appunto è l'incredibile Della santità L'incredibile Dell'esperienza di Dio Mietere dove non si è seminato Ma stiamo educando persone che Non sanno mietere neanche dove hanno seminato E quindi Portano a casa Frutti Scolastici Lavorativi Familiari Molto scarsi Quando va bene Ho avuto paura E sono andato a nascondere Il tuo talento sotto terra Ecco qua ciò che è tuo Capite? Non ha rubato niente Gli ridai il suo E no No perché se tu hai paura Non hai paura perché io sono duro Non hai paura perché io mi meto Dove non ho seminato No tu hai paura Questa è la radice della paura Tu hai paura Perché tu non vuoi trafficare il tuo talento Perché tu pieno del tuo orgoglio Pieno del tuo mano proprio Vedendo quell'unico talento Invece di metterlo a servizio Tu lo tieni per te E la paura E la paura Fa 90 Cioè la paura ti può far perdere il regno di Dio Il servo inutile Certo perché chi non traffica è inutile Questo è il servo inutile Veramente inutile Che non è capace di trafficare Che non vuole trafficare Che ha paura di trafficare il suo talento Che ha paura di metterlo a servizio Che ha paura di prendere il suo impegno E quindi lo nasconde E si nasconde Fa la vita del coniglio Sotto terra Mi rispose il padrone Servo malvagio e pigro Cioè sei cattivo E sei pigro Noi ci mentiamo tanto a pensare Che dobbiamo fare chissà quali penitenze Nella nostra vita La prima penitenza secondo me Che dobbiamo fare È la lotta alla pigrizia Cioè tu prendi la bottiglia dell'olio E la metti in tavola Non si mette la bottiglia dell'olio in tavola Sulla tovaglia Perché poi la macchi E poi qualcuno la deve lavare Pulire, smacchiare Eh sì ma mi sono appena seduto Io sono già stato dieci volte da tavola Vabbè dai No No La pigrizia la devi combattere Quindi prenditi Alzi per l'undicesima volta Prendi un piattino E la metti sotto all'olio Perché la tovaglia La devi macchiare Vado al lavandino O meglio Vado a bere C'ho sete Prendo un bicchiere Lo bevo Cioè scusate Bevo l'acqua che c'è nel bicchiere Poi cosa faccio? Prendo il bicchiere Lo pianto nel lavandino Io non ho mai visto I bicchieri volanti Che si autopuliscono Però Cioè Può essere Che ho perso un pezzettino Delle nuove tecnologie Quel bicchiere Lì rimane lì E lì che lo pulisce Ma perché Se hai appena usato una cosa Non ti lavi Sta benedetta cosa E non la mettevi asciugata Ma perché? Perché bisogna trasformare Il lavandino In una pattumiera Ma il lavandino Non è una pattumiera Il lavandino È un lavandino Dove devo lavare le cose E lava le ste benedette cose Ma perché lo devi Trasformare In un porcile Prenditi sta roba Che è sporcata E te la lavi Te l'asciughi Te la metti via No ma io lo faccio dopo No ma tu lo fai adesso Per una questione di rispetto Di chi viene dopo di te Che si trova tutto Il tuo porcile Messo dentro lì Ma perché? Perché te viene comodo così Ma tanto lo devi fare Che tu lo faccia prima O lo faccia dopo Tu lo devi fare Inoltre Magari C'hai anche la ricognita speranza Dentro di te Di dire E magari lo fa qualcun altro Lo fa la mamma Lo fa il papà Lo fa il fratello Lo fa la sorella E così me la salvo E no Bambino bello Non si fa così Invece di dire No ma io non riesco a fare le penitenze No ma io sono come Teresina Lasciamo stare Teresina Che viene presa come modello Sommo Della pigrizia Della cide Dell'inedia Della non voglia Guardate Non citiamo Teresina Sproposito E un giorno vi dovrò fare Un'omelia su Teresina Perché ho letto di quelle robe su Teresina Guardate Prendono Teresina La fanno diventare La bandiera La bandiera Dei vizi I sette vizi capitali Teresina diventa la bandiera Citiamo Teresina Per dire No ma anche Teresina ha detto No ma anche Teresina ha fatto No ma Quindi No 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 Guardate Lasciamo perdere Teresina Che se c'era una persona penitente E se c'era una persona rigorosa E se c'era una persona Dura Dura Questa era Teresina Non è la santina un po' Un po' stordita Delle roselline volanti eh Per favore smettiamola Con questa Sciocchezza Di presentare Teresina Come se fosse Una piccola rimbambita Non è la santa Dei rimbambiti Andate a leggere La vita di Teresina E poi venitemi a dire Se era una santina Così da due soldi Che stava lì a perdersi Dietro le roselline Andate a leggere No ma che capite Noi parliamo di quello Che non conosciamo E vabbè allora Possiamo far dire di tutto di più No poi Quello che conosciamo È a pezzi A macchia di leopardo No E allora me lo prendo Me lo uso Secondo le mie voglie Vuoi fare le penitenze E lavati sta roba nel lavandino Lavala Usi la forchetta La prendi La lavi E la metti via Così chi viene dopo di te Dice oh che bello Un lavandino pulito Vai in bagno È la stessa cosa È la stessa Identica cosa Apri ste benedette finestre Tira ste benedetta acqua C'è Ma io non riesco a capire Non lo so Ma ci vuole tanto Pensa Pensa Prova a pensare Che anche se fossi tu Che ritorna Tu stesso In quel luogo Ma perché non lo devi trovare Ordinato Bello Pulito E sistemato No ma tanto Poi viene una donna di servizio Beh allora cosa vuol dire Che mangiamo per terra Buttiamo la pasta per terra Tanto dopo viene una donna di servizio Poi però facciamo il digiuno Poi però ci chiediamo Ma il venerdì Io devo Ma stiamo coi piedi per terra Per favore Ma dico Ma ci vediamo Come siamo conciati Guardiamo il disordine Nel quale viviamo E il disordine Non sono Non è altro che Atti di pigrizia Perpetuati nel tempo Ci sono persone Che non sanno Avere cura di niente Spaccano su tutto Tutto Non riescono a tenere Sano e integro Tra le mani Niente E il tavolo sbeccato E il piatto Incrinato E il bicchiere scheggiato E la forchetta piegata Tu metti giù Una bella tovaglia Spanfete Cinque minuti dopo C'è sulla macchia di sugo Di vino Di olio Ed io non so che cosa Servo Malvagio Picro Nascondere E nascondersi Non è sintomo Di bontà I mollicci Non sono buoni Sono mollicci Tu sapevi Che i metodi Dove non ho seminato Raccolgo dove non ho sparso Avessi dovuto affidare I miei denari banchieri Così tornando Avrei tirato I miei interessi Il signore Vuole raccogliere Vuole raccogliere Da quello che investe Non è che mi dà a me Così No Me lo dà Perché dopo io gli ridia Con gli interessi E vi ricordate i meriti Certo I nostri meriti Sono un po' Ho fatto qualcosa Cioè che io mi sono impegnato A non stare A guardare il cielo Ma mi sono messo A fare Poi va bene Tornerò a casa Un po' malconcio Tornerò a casa Sì sì va bene tutto Però intanto posso dire Signore Io ho messo il mio E anche qua dico Permettetemelo Mi fanno molto Sorridere Un sorriso amaro Sapete no Un sorriso amaro E certe email O messaggi Che ricevo Dove mi dicono Carissimo padre Sono Cinque anni Sei anni Che lo ascolto Non ho mai avuto Il coraggio Di scriverle Che io quando leggo Ste cose Dico Buah Un coraggio De che Coraggio Di che cose Vabbè Comunque Non ho mai avuto Il coraggio Di scriverle E E uno dice Allora adesso Come mai ho trovato Il coraggio Ma siccome ho bisogno Di un consiglio Allora le scrivo Allora le scrivo No ma fammi capire Quindi tu per sei anni Non ti sei mai fatto vivo Perché non ci avevi bisogno Perché non ci avevi bisogno E avevi paura di disturbare E avevi paura di non so cosa Di mastro titta Devi paura Va bene Va bene Adesso Adesso Siccome ho bisogno Allora Allora Scrivo E mi faccio presente Ma ti sembra Una cosa logica Cioè quindi Ciò che ti dà Il coraggio Di È il bisogno E fin tanto Che tu non avevi bisogno Poi fa niente Se Il signor ha trattato Di talenti Dei quali Magari In quei 5-6 anni Ci sarebbe stato Molto bisogno Avrebbero avuto bisogno Gli altri E bastava Che tu invece Ti facessi presente Per metterli A trafficare Perché qualcun altro Non avesse Fa niente A te non ti interessa Perché non eri tu Che avevi bisogno E non ho altri Che avevano bisogno Eh ma io C'avevo paura Di bilama Quindi Capite Adesso però Non ho più paura Perché c'ho bisogno io Eh certo Però Vi rendete conto Che Questa cosa qui Non sta Col trafficare I propri doni Io ve l'ho sempre detto No Facciamo rete Ma tra tutti Tra tutti quelli Che voi conoscete Fate rete Fatevi conoscere Fatevi presenti Ditelo Io faccio Guardate Vi faccio un esempio Vi faccio un esempio Una Una persona Mi scrive Eh Perché ci aveva bisogno Del cingolo Di San Tommaso E Nello scrive Mi si presenta E mi dice Io faccio L'infermiera In questo ospedale Va bene E E io poi Mi segno tutte queste cose Perché non si sa mai Nella vita Come diceva La mia carissima nonna Va bene Passa il tempo Un ragazzo Fa un incidente stradale Pazzesco Gravissimo Con dei rischi Gravissimi E quindi Viene ricoverato Viene ricoverato Questo ragazzo Mi scrive Mi dice Guardi padre Sono qui Prighi per me Sono un po' Sofferente Disperato Ho tanta paura Per questo Per questo Per quest'altro E io dico Ma Chissà se io Conosco qualcuno In quell'ospedale Allora vado Nella mia Super Agenda Dove Tengo salvato Tutto E Sapete adesso I computer Permetto di fare La ricerca Per parola E io scrivo Il nome Dell'ospedale Tac Viene fuori Quell'infermiera Che mi aveva scritto Mesi e mesi Di prima E così Ho potuto Chiamarla E siccome Per questa cosa Del covid Nessuno Può andare A trovare Nessuno Ma E lavora Dentro In un ospedale Quindi ho potuto Chiamarla E ho detto Cara infermiera Mi faccio Una cortesia Vada a trovare Questo ragazzo Vada a portargli Una parola Di Consolazione Di conforto Vada a salutarlo A nome mio A nome di tutte Le persone Che stanno Pregando per lui E così Sono entrati amici Se questa infermiera Non mi avesse dato Il suo nome Il suo cognome Il luogo Dove lavorava Questo ragazzo Si faceva Tutto il tempo Da solo Dentro in un ospedale Senza avere Un volto amico Io mi domando Ma che cos'è Che ci costa Fare queste cose Se noi sappiamo Che il sacerdote Che quel sacerdote È un po' Un crocevia Di tante persone Perché in tanti Lo conoscono Ma a me Cosa mi costa Dire padre Ma io Ma io non lo so Io so costruire Le case Io so costruire Sì le case Le capelline Io so Sono bravo Con i mattoni Padre Se ci fosse bisogno E io prendo Salvo E registro Padre Ma io C'ho qui Una casona Bella Enorme Sono dentro Da solo Ma c'ho tante cose Poi c'ho un'altra lì Un'altra casetta Poi c'ho una casetta In riva al mare C'ho una casettina In montagna C'ho una casetta Padre Ma io mi costruisco Tutto il giorno Tutto l'anno No Potrebbe 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 mai accadere Che Potrebbe accadere Che qualcuno Non so Sta male Deve fare una Convalescenza Ma non lo so Gli viene un problema I polmoni Gli viene un problema Qualunque cosa Guardi Io ho questo Se la dovesse Aver mai In mente Qualcuno Di bravo Di fidato Tutto quello che vuole Che però Ha bisogno Io ci sono Ma perché Ma cosa ci costa Fare queste cose Però Quando abbiamo bisogno Noi Ah Sappiamo prendere E scrivere E chiamare Questa La chiamiamo carità Questo La chiamiamo cristianesimo No Non è giusto Pensate alla storia Di questo ragazzo Che vi ho appena citato Accaduto pochi mesi fa Tanto Un volto amico Che andasse là Li dicesse Ti porto i saluti Di Guarda che sono qui A nome di tutte queste persone Che pregano per te Forza e coraggio Condividiamo la stessa fede Ma quanto è importante Padre io faccio l'oculista Padre io faccio il cardiochirurgo Padre io faccio Non lo so L'ortopedico Padre io Io vendo la frutta Io vendo la verdura Io vendo il pane Io vendo Ma non lo so Ma io faccio i maglioni di lana Io so lavorare l'uncinetto Io non posso camminare Non posso però So ricavare Io so Ma non facciamo i finti umili No ma io non so Ma dillo Sei capace di fare quello E dillo E fatti presente Io so fare una salsa di pomodoro Non so fare niente nella vita So fare solo quello La salsa di pomodoro buonissima E dillo Che sei fare la salsa di pomodoro buonissima Tu non lo sai A cosa può servire E intanto lo dici Lo comunichi Ma purtroppo Non lo facciamo Sapete perché non lo facciamo? Non lo facciamo perché siamo di grandi egoisti E diciamo No ma io vado oltre Mi è capitata Un'altra esperienza Contraria o negativa Un personaggio Abbastanza famoso Un professionista Che ha sicuramente ascoltato Perché mi ha poi detto Che ascolta sempre le omelie E Appunto un professionista E un altro ragazzo Un problema molto grave Anche questo Molto serio Ma io non avevo un nome da dare Perché non conoscevo nessuno Che Da consigliare Esperto di quella cosa lì E quindi ho detto Mi dispiace Io non conosco nessuno E un Tre settimane dopo Per Chissà Cori disegno E la provvidenza Vengo a conoscere Quel professionista Il quale mi dice Ah ma io sento sempre Le sue omelie Ed era esattamente Il professionista Che serviva Per quel ragazzo Mi dico Ma scusa Ma perché non ti sei fatto vivo? Che avresti potuto aiutare Questa persona Che aveva bisogno Di una Di qualcuno Difidato Di qualcuno Che amasse il Signore Di qualcuno Che 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 Ma perché? Ma perché non l'hai detto? Ah io tutti i giorni Ascolto le sue omelie A far che cosa? A cosa le ascolti a fare Se hai potuto le cose Che vengono dette Tu prendi vai oltre Mettiamo a fruttificare Mettiamo a A A trafficare I nostri talenti Fatevi presenti Con me Con chi volete voi Ma Diffondete Diffondiamo Facciamoci presenti Diciamolo Io sono capace Di fare questo E lo facciamo E ci rendiamo disponibili Potremmo aiutare Una persona sola? Bene Avremo aiutato Una persona sola Avremo la benedizione Di una persona Avremo ridato Il sorriso A una persona Se quando io morirò Il buon Dio Mi dirà Padre Giorgio Guarda Tutte le tue omelie Sono servite Solo Per quest'anima Nessun altro Tutto il tempo Chi ci hai messo Le tue fatiche Le tue puntini 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 Guarda Sono serviti Solo per quest'anima Qui Per nessun altro Tutto il resto Buttato via Ma per quest'anima Un'anima Sono servite Io sarò felicissimo Perché non è che si fanno le cose Per le fosse dei leoni Ma ne basta una Forse uno solo Pensate il contrario Se il Signore ci dovesse dire Mi dovesse dire Vedi Padre Giorgio Se tu avessi fatto Quelle omelie O se tu avessi fatto Quella cosa Tu avresti salvato Avresti aiutato Quell'anima Ma poiché Tu non l'hai fatto Guarda Cosa è successo Che cosa è meglio Delle due Tu avresti potuto aiutare Quella persona Avresti potuto aiutare Quel sacerdote Avessi potuto aiutare Quel giovane Avessi potuto aiutare Quella mamma Avessi potuto aiutare Quel papà Ma tu non ti sei fatto Conoscere Non ti sei reso disponibile Non hai trafficato Al massimo Trafficare al massimo Vuol dire proprio questo Dire Alle persone giuste Tutto quello che posso dire Dire io ci sono Io ci sono Poi non servirà Va bene Ma tu non lo sai E allora dillo Perché invece magari potrebbe servire E come se potrebbe servire Cerchiamo di non essere inutili Di non condurre una vita inutile Stupida Una vita che non interessa a nessuno Semplicemente risucchiati dentro il nostro professionalismo Dentro le nostre etichette Dentro il nostro Come il nostro essere snob No ma io No ma qui No ma là Ma rendiamoci servi Ma impariamo a servire Questa umanità Così sofferente Impariamo ad essere servi Utilissimi Perché il servo inutile Dell'altra parabola In realtà è un servo utilissimo E inutile circa il fatto Che non cerca Un consenso umano Questo invece servo inutile qui È veramente inutile Non serve a niente A niente Veramente a niente E guardate che ci sono tante persone Che sono veramente generose Persone che aprono le loro case Persone che ti danno il cuore in mano Belle Bellissime Bellissime queste persone Non sentite anche voi La voglia di essere così Di avere questo cuore enorme Bello Questo cuore aperto Questo darsi Bellissimo Non darsi in modo stupido Darsi in modo intelligente A chi sa farne tesoro A chi è capace di custodire il dono Benedicat vosso onnipotens Deus Pater et figlius E spiritus santus Amen Dio ci benedica La Vergine ci protecca Amen Se l'ho dato Gesù Cristo Sempre se l'ho dato Allora